Ciao a tutti, benvenuti a Gossip e News Ita. Oggi siamo qui per parlarvi di una storia che ha scosso il mondo dell'intrattenimento e delle celebrità italiane. Clizia Incorvaia, l'influencer legata sentimentalmente a Paolo Ciavarro, ha condiviso recentemente dettagli intimi sulla sua vita che ci hanno toccato profondamente.Due anni fa, Clizia ha dovuto affrontare un'esperienza difficile, un aborto. La notizia è venuta fuori in occasione del compleanno di Paolo Ciavarro, quando Clizia ha deciso di condividere con il mondo le sfide che hanno dovuto superare come coppia. Questo includeva la distanza, i pregiudizi, e, in particolare, l'aborto che Clizia aveva subito.in un post su Instagram datato 22 ottobre, Clizia ha scritto, siamo andati contro tutto e tutti sopportando distanza, pregiudizi e tempo. Affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l'aborto, ma non abbiamo mai perso la fede. Tuttavia, dopo aver condiviso questa parte dolorosa della sua vita, Clizia non è stata risparmiata dalle critiche. Alcuni l'hanno accusata di aver fatto tutto per ottenere visibilità. Ma è importante notare che Clizia ha deciso di condividere questa storia a distanza di due anni, in un post personale, senza alcun guadagno finanziario.Clizia ha anche spiegato che quando è successo l'aborto, ha scelto di non parlarne pubblicamente in TV perché stava vivendo un profondo dolore che preferiva non esporre nei programmi televisivi. Inoltre, Clizia e Paolo affrontavano spesso la domanda, quando farete un figlio? Avete intenzione? Nelle loro apparizioni televisive, rendendo ancora più difficile questo momento delicato. La decisione di Clizia di condividere questa storia dopo tanto tempo è finalizzata a far capire che la vita delle celebrità non è solo glamour, ma è fatta di alti e bassi, come quella di tutti noi. Il 80% delle donne che la seguono affronta momenti difficili, e Clizia spera che il suo racconto possa aiutare chi si trova nella stessa situazione.Prima di concludere, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un like se apprezzate i nostri contenuti. In questo modo, ci aiutate a continuare a portarvi le notizie più interessanti e le storie più coinvolgenti del mondo delle celebrità italiane.